Il Movimento 5 Stelle sicuramente anche su Padova porta avanti quelle che sono le proprie battaglie da anni ormai, quindi da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di assistenza magari delle persone più bisognose, adesso Padova ha diverse necessità, l'amministrazione Giordani con il Partito Democratico e tutte le civiche ha sicuramente attratto molti premi per il Comune, pensiamo solo all'ultimo riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO, pensiamo a tutte le attività che devono essere svolte sullo stadio, pensiamo alle attività viabilistiche che stanno mettendo in campo, su questo il Movimento 5 Stelle ha da dire come proposta per migliorare, noi a Padova abbiamo portato temi come il plastic free, abbiamo spinto magari per temi come l'antifascismo piuttosto che le comunità energetiche di ultima attuazione, è molto interessante per l'abbassamento dei costi energetici, ecco con la sinistra patavina abbiamo sicuramente trovato un asse che ci ha permesso di portare avanti anche quelle che sono le battaglie del 5 Stelle, io dico il Movimento 5 Stelle su Padova c'è e starà con tutte quelle forze che hanno a cuore il proprio Comune e vogliono portare avanti progetti comuni, ad oggi ci sono dei nomi sia da parte di destra che di sinistra ma non è ancora il momento per dire andiamo da una parte o dall'altra, questo è il momento delle idee, questo è il momento delle proposte, questo è il momento della creazione, di dare la prospettiva ai cittadini padovani di quello che saranno i lavori principali da portare avanti nei prossimi anni. Tema molto importante, ospedale e inceneritore, insomma sono due temi su cui stiamo molto dibattendo e dobbiamo portare avanti in maniera seria, l'inceneritore ovviamente limitando il più possibile quello che è la possibilità di aumentare le emissioni all'interno dell'atmosfera e l'ospedale che si è fatto il prima possibile sicuramente. Conte che in questo momento continuiamo ad amministrare questa città, continuiamo a farlo con grandi progetti, col progetto SMART all'insegna della sostenibilità e migliorando sempre tutti i servizi ai cittadini. Quando arriverà il periodo dell'elezione, arriverà e saremo senza ombra di dubbio pronti, però ora come ora quello che pensiamo è continuare ad amministrare questa città con tutto l'impegno e l'entusiasmo e i risultati che abbiamo ottenuto fino adesso e soprattutto coinvolgendo sempre più persone nell'attività politica sul territorio. Ricordo che in questi giorni, in particolare anche il prossimo weekend, il prossimo venerdì, sabato e domenica, c'è la festa dell'unità al Gran Teatro Geox, con cui il Partito Democratico sta raccogliendo tutte le proprie risorse, aprendosi anche alla cittadinanza per discutere e dibattere su temi locali, nazionali e anche europei, perché abbiamo bisogno di buona politica, di partecipazione, di confrontarci e soprattutto anche di stare assieme. Il nostro obiettivo è allearci con la città, con una città che ha bisogno sicuramente di un cambio di amministrazione, noi siamo convinti che questa amministrazione abbia tralasciato molti problemi che noi invece riteniamo debbano essere affrontati e in particolare il problema delle periferie che per molti aspetti rimangono abbandonate, il tema dello sviluppo economico e sociale della città, della zona industriale di Padova, della grande viabilità, dei collegamenti, ecco io credo che ci siano molti aspetti che devono essere affrontati, ovviamente auspichiamo che il centro-destra si presenti compatto con un candidato comune alle prossime amministrative, per questo stiamo lavorando, ma per individuare la figura noi stiamo interloquendo con i corpi sociali, con le associazioni, con le categorie, con il mondo della produzione, perché riteniamo che attraverso questi passaggi si possa pervenire a creare un'alleanza forte che sia un'alleanza di proposte, di programma per una città che ha bisogno sicuramente di un cambiamento.